Ehi. Mi senti? Shhh. Non far casino. Potrebbero sentirci. Sei al sicuro? Puoi fidarti di me? No, no, no. Stai giù. Hai preso una brutta botta. Meglio che non ti alzi. Stai tranquillo. Di me puoi fidarti, ok? Non ti ricordi niente? Ti immagino. Ti hanno dato una bella botta in testa. È normale. Ma non ti preoccupare. Posso raccontartelo io? Io c'ero. Quindi posso raccontartelo se ti va? Chi sono io? Non ho qualunque. Ma ti puoi fidare? Comunque sono Tito. E tu? Bene. Molto piacere. Purtroppo ci siamo conosciuti in una situazione un po' brutta, no? Direi. Al momento siamo in una casa fuori buio. L'unica cosa che ho trovato è una torcia da poter illuminare un po' la stanza. Ma non è abbastanza come avere una luce normale. Sono stati i salvatori. Hai riporti così? Li ho visti? Ti stavano picchiando? È arrivato l'ultimo. E ti ha dato una bella botta in testa? Sì, anche io lì dei salvatori. Longa storia. Non credo che tu la voglia sentire. Dobbiamo ammeticare quel taglia. Subito. Potrebbe infettarsi. Vuoi sapere perché ero lì? Non ti fidi ancora di me? Facevo parte di una comunità e ovviamente i salvatori. Sai che tutto è i salvatori. Io sono stato uno dei pochi a ribellarmi, a voler combattere. Per questo sono stato preso di forza e portato nella loro base. Diciamo che ci sono stato poco perché sono molto bravo a scappare. E... Quando sono uscito appunto ti ho trovato. Era ormai troppo tardi perché la botta in testa ti era già stata data. E allora ho fatto quello che sono più bravo a fare. Farli fuori. Quelli che ti stavano picchiando. Ti ho preso, ti ho caricato su una macchina. E sono arrivato qui. Qua dovremmo essere assicuro. È da un po' che non vedo vaganti. Però dobbiamo stare molto attenti perché sicuramente ci stanno cercando. Quindi... Facciamo il più piano possibile. Allora, io in questa casa ho trovato un po' di disinfettanti. Adesso dovrò curarti la ferita perché potrebbe infettarsi. Non ce n'è fatto. Mi faremo bastare. Ok, stai tranquillo, non ti farò male. Brucerà solo un po'. Brucerà. Grazie a tutti. E vedo ancora un po'. Andrà tutto bene. Quando sarai guarito possiamo andarci di qua. Possiamo andarcene e trovare un posto più sicuro e lontano dei salvatori. Anche se io per come sono fatto li vorrei affrontare, ma sono troppo. Da solo non posso ovviamente farcela. Quindi ci allontaneremo di qua appena possibile. Prima devi guarire. Adesso andiamo ad pulire con precisione con questo cotton shock. Ok. 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 Grazie. Tutto bene? Siamo tutti delle vittime, non mi devi ringraziare. Faccio solo quello che è meglio per gli altri. Ok, allora. Ok, direi che la ferita è molto più pulita. Come dici? Stai tranquillo, qui siamo al sicuro. Sono andato un po' più distante rispetto a dove eravamo. Per ora qua non ho incontrato né persone né tanto meno vaganti. Quindi dovremmo essere al sicuro, però bisogna stare molto attenti. Anche perché sei stato senza sensi per tanto tempo e fino ad allora non è arrivato nessuno. Quanto tempo hai dormito? Lo vuoi sapere veramente? Due giorni. Due giorni. Due giorni. Non è arrivato nessuno. Io non credo. Possono arrivare adesso. O almeno spero. Sì. Io vado a cercare qualcosa da mangiare. Mettiti giù e riposa. Io torno presto. Non aver paura, torna presto, non ti preoccupare, stai qui, non far casino, non fare niente, se dovesse venire qualcuno o qualcosa, lì ci sono delle armi, puoi difenderti, ok? Ok? Riposati, chiudi gli occhi, non ti preoccupare, siamo al sicuro, ok? Chiudi gli occhi.